29 ottobre 2019, Messaggio di Nostra Signora Cari figli, verrà il giorno in cui molti cercheranno il prezioso alimento e in pochi luoghi lo troveranno? Soffro per quello che viene per voi. I nemici agiranno e contamineranno molti. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Voi non siete soli. Il Mio Gesù sarà con voi tutti i giorni. Cercate forze nella preghiera e non permettete che le novità del demonio vi allontanino dalla verità. Sappiate tutti voi che la presenza reale del Mio Gesù nell'Eucaristia e in corpo, sangue, anima e divinità sarà sempre verità nel cuore dei giusti. La grande confusione si diffonderà ovunque, ma rimanete fermi nella vostra fede. Non vi dimenticate delle lezioni del passato. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.